Non erano mancate le occasioni create ma era mancata la capacità di concretizzare queste occasioni. Il fatto di riuscirci con una certa continuità nell'ultima partita ci ha sicuramente dato grandi vantaggi. Siamo stati più precisi, migliori nelle scelte e con più qualità nelle conclusioni. Quindi questo è un dato molto significativo e importante che assolutamente dobbiamo provare a continuare. È inutile guardarsi indietro, è chiaro che il mio arrivo al Milan è successo, è capitato a ottobre. Da lì abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo fatto secondo me, non abbiamo avuto quella continuità che però è intrinseca al fatto che abbiamo lavorato poco insieme. Quindi ci vuole del tempo per costruire una cosa importante, per costruire comunque un modello di gioco, una filosofia, un metodo di lavoro, conoscere i giocatori. Non solamente dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale, come riuscire ad entrare in testa. Quindi ci vuole un po' di tempo. Noi dobbiamo finire bene il campionato. Sette partite in venti giorni, non è mai successo che un campionato finisse con così tanti impegni. Quindi ci sono ancora tanti punti, tante partite importanti da giocare. Domani abbiamo uno importantissimo e difficilissimo, perché il Napoli è una gran squadra, di qualità, con un allenatore che gli ha dato la mentalità giusta, che sta facendo un grande lavoro, che ha appena vinto la Coppa Italia, che ha vinto tutte le partite tranne con l'Atalanta. Quindi affrontiamo una squadra che sta molto bene, come stiamo bene noi, quindi dobbiamo pensare solamente a quello che possiamo fare da oggi fino al campionato e non quello che potevamo fare prima. Dobbiamo fare una grande prestazione, perché ne abbiamo le possibilità, ne abbiamo le qualità. Giocheremo con grande rispetto all'avversario, ma dobbiamo giocare assolutamente con la convinzione e con la saperezza delle nostre qualità, perché dobbiamo sfruttare questo momento, dare il massimo, giocare con continuità, stare dentro la partita e provare a fare bene anche domani. Noi abbiamo sicuramente migliorato la squadra da gennaio in poi, con degli arrivi importanti. Adesso si tratta di sfidare una squadra forte, ma farlo con convinzione, con determinazione, perché c'è da spingere, c'è da farlo fino al 2 agosto. La cosa importante e la cosa che mi dà più soddisfazione è che nessuno dei miei giocatori sta pensando, come sottoscritto al 3 agosto, ma sta pensando solamente a dare il massimo fino alla fine. Né io né i miei giocatori saremmo contenti di finire il settimo posto in questo campionato. Quindi dobbiamo provare a raggiungere quelle che ci stanno davanti e domani è una partita importantissima. La Roma comunque è abbastanza vicina, ma noi l'abbiamo già incontrata, l'abbiamo meritatamente battuta. Adesso dobbiamo provare a fare più punti classifica per provare a migliorare la nostra classifica, che non è credo quella che vorremmo che fosse a fine campionato. Grazie a tutti i nostri amici.